La puntata d'un schnett tra tutti un secchi argomonti, un pezzo a un vare dai mondiai. Pris dal latte al prigo. Fascia ci affa le termes. Per un cinque anni si è un pezzo pitté alla Federazione Internazionale dei Schi e FIS per organizzare un campionato del mondo e per un quattro anni è un altro posto che ha fatto in Ciaria. Una grande elusione più grande, ma i ampezzani a tenere due e la ciomongia deprovata per l'edizione del 2020. Ai primi di giugno è la cosa non offiziale. Se tutto va pulito come la RAE da esse e che presentano alla Federazione i progetti che loro hanno per essere seguri, saranno pronti per scominciare l'attività e il lavoro che saranno al più presto per poter fare la pista pulito. Per metter da giù, il progetto è il numero di suona fondazione dal nome Cortina 2020, perché era che le rappresentanti di tutte le categorie che potrebbero avere interesse che ampezz poi organizzare questo gran evento. Non c'è una questione sportiva, ma non c'è una questione economica. Un po' destra a sé finanziamento per portare le ragioni a un livello più alto del Vignevers. Ho bisogno di avere la possibilità di avere un collegamento più veloce con il resto del mondo, perché che parla a Cortina ancora adesso si fa sfadere, sia dall'Austria che da Venezia, e ho la necessità che si cominciano a fare anche l'aggiornamento delle strutture turistiche e sportive. In la Cortina di Ciarus, il paio di Stofanes e la chiamato dei da interrette le piste Olimpia o la cale di anche la Coppa del Mondo delle Sere, la Canalone e la A de Col Druché o la che le gare mondiali ne sono a saldare. Produele dopo la URSS di Atamont, da andare dal ragione, dal Travert a Rumerlo. Non è più fatta non c'è la pista Tony Siler per il slalom, ma c'è la A de Col Druché come un Travert aperto. Cina 35 milioni d'euro, 10 euro, è matto per i derci della televisione. Le resti saranno i da sponsors, i dandati della man pubblica. Ho anche l'appoggio del governo della regione e della provincia e quindi là sarà il più importante perché gli investimenti per poter fare miglioramenti sul territorio e vennerà direttamente dal Stato. Il progetto è a buon punto, i papi e sarginese per la presentazione offiziale a Tal Mexico di giugno. Non si aspetta che la FIS di Gidesce e che un po' è metter mangi i Gran Laurs. Tecche le aspettative dei Ampezzani, i Niamat e Granes. I mondiali è come se fosse una seconda Olimpiade. È il momento di rilancio non solo per il paese di Cortina ma per tutto il val che può essere sia il val del Boite ma anche il riflesso araba, do Biaco e quant'altro. perché tutta la gente che riuscirà ha bisogno di trovare da qualche parte. La sua candidata per i campionati del mondo al 2020 è Ampezz, che al venire di Teno sarà Aldo in Rio ma per delle tue cose ne sono mai niente fino alla fine. In questi ultimi anni, la BCE ha adottato una politica monetaria espansiva portando i Fitch a un livello di base, ma è che abbiamo oltre registrato l'Europa. Tutto il cash con la speranza e con l'intenzione di portare in marcia fuori dalla crisi economica e finanziaria e di combattere i Gran Perigo della deflazione. Io credo che a un livello di Fitch di base vogliono aumentare la convenienza di investire in titoli e altre attività finanziaria e vogliono incentivare a investire in l'economia reale per l'economia dei rischi e che dopo di queste indebiti. Il plan della Banca Centrale Europea di inondare in marcia con liquidità e di sforzare prezzi le banche per l'economia reale. Per l'economia reale, le prezzi le banche e di creare ricche. D'altra parte, ai imprenditori e aziende ma interessi di investire in l'economia che le aspettative di vendere in positiva e al regnare un certo ottimismo sul mercato, per l'economia reale. che vengono investimenti di salmanco estro accompagnati da un 20% o 30% del patrimonio proprio, che il debito bancario complessivo per aziende turistiche ne dessine estro mai più di tra iadi il volume d'affars o 6 iadi di vita e che le srate per i privati dessine estro mai più di un terzo di sovra d'anni. Le latte è un elemento importante per la vita, e anche alla base della vita dei trecchi pauri in nostri valori. Mobaldi è un ramo economico al prego, dato che l'Unione Europea, a tutti giù l'anno passato le scuote, facendo ciò che le pregge. Tomas. La buona nuvella per matrimonio, i pauri di nostri ragioni già performano paia ora di più per un litro di latte, che ci colleghi di paese studi. Mentre la Lataria Brimi di Cresnon paia ora di 50-400 al litro, e che pregge, bel rio solo ai 20 centi di paese studi. La garanta del risultato della rata bontola da noi è la forma giuridica delle latarie, che i cooperativi, e ciò che i pauri già per il più clavare. Per un po', si stanno troppi pauri a treinanti con il davanti, che i pauri già per il latte. Con il manzo d'Auril del 2015, si tratta la quota europea e la produzione del latte diventata da di a di a di a di a di. Per la offerta di Cresc, si tratta il pregge tendenzialmente, e si tratta la quantità che si trattava davanti. in questo modo, la plana dura, che ha comprato la propria vacca, e che non si tratta di più lati, in un certo il pregge, che si tratta di un prodotto, e poi si tratta di un prodotto. Il nostro paura di un prodotto, si tratta di un prodotto in un prodotto per il latte c'è un prodotto per il latte, quindi in disseito che la potuta e il costimento di produzione fuori alti, in modo da soltanto, ma nella loro ne vengono a comprare le pro. Ma la lingua della spazza, che il paura ha, è un po' saldi lunga. In questo modo, la panonia, il strom, il strom, che costa un grumo, che non c'è stata una macchina, e poi si diceva, non ci sono 3.400 euro al anno, ma presto, che non si può fare una strom, quindi, si fa il strom, il dottor del bici e in chi le mette, poi non si chiama qui. Hai fatto rventicin paure di gradoe, che da giù un idile lat a l'abrini, ti vala dalla rata moschale di bambini. Si collegi della Mila e della Senna, a giapana comunicazione o l'acletivano consià da di giù manco lat e da vengli da di ai conoscere che per scrivere che la quantità abbassa il pregio. Le massa latano in canto e che ha di più gauze. Non c'è un po' di scolle. In questo modo, che Paurus vivono anche nel commercio come il latte, ha anche apprezzato la distanza. Bisogna 2 anni si lamenta la situazione di Paurus e del pregio che ti vanno pagare ora per litro di latte e che spesa alla longe. Non c'è un po' di più, è un po' di più. Ma non c'è un po' di più, ma non c'è un po' di più, ma non c'è un po' di più. Ma non c'è un po' di più, ma non c'è un po' di più. E spero che, per quanto riguarda possono segure che la quantità di qualità vanno lavorare e trasformare i prodotti di qualità. E che, vanno lasciare di fatto nelle latte riuscire di Sio Tirol. Conoscute l'onccio e l'ergo per si c'è giù, yogurt e schmauz. E una seconda possibilità, fosse quella che si sono in marcha di prodotti biologici, o in quina me, già mi ora i tirze di stalla, se si è giù, per esempio, che i schalli di moda, i garantisci che ogni momento un buon rendimento. Non c'è un po' di più, ma non c'è un po' di più. Non c'è un po' di più, ma non c'è un po' di più, ma non c'è un po' di più. Inoltre, la regione di Picole, è la regione di Picole, è la regione di Erlacher. Se vanno a fare un po' di più, le comuni di Fodom le più per le sociale, nella regione del Veneto. Inoltre, la casa di Palza, la Villa Sant'Igepp. Inoltre, la vita di Fascia, ci sono le più categorie di più, che sono più rappresentanti del organo del turismo. Alla zona di Picole, la regione di Picole, è la regione di Picole, Si avvicinano il governo di Picole, è la zona di Picole, il mondo del Marca Sant'Igepp. Inoltre, il fondo di Dezember, ci si rimane il nuovo termo di Picole, il po' di più. Il problema di Picole, è il momento di Picole per Picole. Il mondo di Picole, è il mondo di Picole e di Picole, ci sono le due bambini di Picole. La via di Picole. Il giorno del Vito, è il mondo di Picole. venne apprezzata da secco in casa della scuola di Medellina. È la termodolomia che ha sempre sviluppato negli ultimi 30 anni che è stagga perché è una solforosa che ha un sacco di qualità curativa. La scuola di sol per fare buona la digestione, alla pelle, al col, ai fies blanchi, agli oschi e al cuore. Tant'è anche il hotel termodolomia da Pozza lavorare più sull'aperto della cura e della riabilitazione ed è in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale ed è un lavoro da fare attirare a lungo in un'implante termale di prevenzione e benestero. Da dieci anni in casa vennero studiare i progetti l'anno passato alla società metoda da due anni dai proprietari dei terrati, ma anche dai soci privati, potremmo metter male le grandi lavori. È un progetto con un costo abbastanza elevato perché parliamo di oltre 11 milioni di impegno finanziario però l'anno passato troviamo la soluzione finanziaria di poterlo fare e siamo partiti. E questo è il momento che ho, siamo su una tabella di marcia molto buona perché più sono diverso per il dicembre. Dertanto che la società faxana fece sulle fabbricate tenerà la gestione sorandata alla società milanesa Quadrio Curzio, specializzata da managare termi fora prodotto le mondo. Il know-how e le economie di Stiga portano ai e il che es messaggio di essere di gran vantaggio alla struttura. La concessione della lega di Alok è in diretta la man delle Terme Dolomio. La concessione dell'Aga è della Terme Dolomia, noi siamo fatti un accordo con Ic, dalla fonte della Terme Dolomia, zona Tor, una parte dell'Aga e naturalmente...